va bene però il tuo passo va bene Grazie. 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 Oh, grazie. Che pausa ragazzi. Lila pausa. Ma Giuseppe che lì ci fermiamo? Sì. Certo. Alla Lila Ristecchio. Io? Ma se fossimo su Lila Ristecchio questo mi devo portare. cammina bene con questi ramponi umberto così non va bene metti alla cazzo nel senso che li metti in taglio come se stessi tagliando più eritico e paradossalmente più devi girare la caviglia però come faccio io guarda incrocio guarda come lo metti il piede gira, gira col piede che incrocio giro verso valle certo, giro verso valle mi sembrava di mettere verso valle ma trovo di più no 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 vedi che è questo guarda nel secondo guarda allora andiamo guarda passo incrocio passo incrocio 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 e e e Grazie a tutti 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 Grazie a tutti